E' a rischio un altro prodotto simbolo della qualità made in Italy. Le decisioni europee sulla riduzione dei dazi all'importazione e dell'olio dalla Tunisia avranno gravi conseguenze sui nostri 4.700 frantoi che producono in media 380.000 tonnellate annue di olio 100% made in Italy. L'allarme arriva da AIFO Confartigianato, l'associazione italiana dei frantoiani oleari, secondo la quale l'arrivo di 35.000 tonnellate di olio tunisino rappresenta l'ennesimo colpo ad un settore già fortemente penalizzato e che negli ultimi 20 anni ha visto dimezzato il numero delle imprese. L'importazione di olio dal paese nordafricano, spiega Maurizio Aluffi, direttore di Confartigianato Imprese Rieti, farà crollare i prezzi del prodotto sul nostro mercato. Le condizioni e costi di produzione in Tunisia sono infatti profondamente diversi rispetto a quanto avviene in Italia. Basti pensare che il costo del lavoro per un operaio tunisino è 15 volte inferiore rispetto a quella di un lavoratore italiano del settore. Ma ad essere penalizzati, oltre alle piccole imprese, sono anche i consumatori. Le regole sull'etichettatura dell'olio prevedono la generica indicazione dell'area di provenienza e non quella specifica del paese di origine del prodotto. È indispensabile dunque che vengano intensificate le attività di controllo sulla tracciabilità dei prodotti. È l'unica arma per prevenire e contrastare i rischi per la salute dei consumatori e per certificare la qualità dell'olio prodotto esclusivamente in Italia, che vanta ben 43 marchi di qualità DOP e IGP. La provincia di Rieti è una delle maggiori produttori di olio della regione Lazio. Sono una trentina i frantoi attivi nella provincia, senza considerare i confezionatori e le aziende agricole che trasformano in proprio. Dentro una produzione come l'olio c'è l'intera storia del territorio, l'unicità di odori e sapori, il sapere accumulato attraverso secoli di storia e la capacità di innovazione insieme alla bellezza dei luoghi e delle loro tradizioni. L'olio importato dalla Tunisia è l'ennesimo attentato ad un made in Italy tanto caro al paese, in questo caso alla sabina e al suo oro, l'olio.